Allora Ciao Ciao Eccolo C'è un bel gioco Eccolo 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 sì io posso salire? non sei rientrato subito dopo di me? se no sei capito nel giro successivo in giro qua anche io con l'asciutto quasi asciutto non ci ho proprio girato dai non ci ho capito non ci ho capito Die All right Grazie a tutti. 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 Non posso permettermi più errori o perdo la posizione? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora c'è abbastanza vantaggio. Grazie a tutti. 5, 2, 2, 3, 2. Ancora un secondo. Mischio il secondo posto. Vai, 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 vai. Go, va, vai, 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 vai. Mischio il secondo. Ho un secondo. Un secondo di margine su quello dietro. vai, 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 vai. Sì, sì, sì. L'ignoranza pura Dovrei conservare il secondo posto Nooo Ma come? Ma il giro è pure più veloce di Nova Rossi Ma che mongolo è? Ma che mongolo è? Oh il best in pista Peccato Ma che l'acqua è un po' e c'è combinata inizia a me non ci viene a dire il secondo non muovare, non ci va tutto forte oh, ci viene lì a cazzo davvero Ronaldinho, sarà per un'altra volta il problema è che io e Palermo abbiamo fatto tutte e due e sette penalità solo a Palermo c'era solo 5 secondi e 5 a me veniva da 6 a me veniva da sempre qualche centesimo in giù e non parlare di Kimi Mania abbiamo fatti 6 sì, solo che Palermo ha girato in 2.28.2 ehi che poi dipende da dove la prendi la penalità ci sono curve più sono a gomito le curve più veloce la prendi più penalità ti dà io ho perso la macchina mi è sbandato sulle rouge quindi ho fatto sinistra, destra e sinistra e non contento che l'ho persa e mi sono interessato e mi ha dato pure le secondi di penalità non soddisfatto io ce l'ho fatto del piano e vediamo dopo tre uscite in tutte e tre dopo l'altro il caso è andato più che lo vuole come Iron zero soste Iron e spunta che hai fatto zero soste no, li ha fatte Ronald li ha fatte ma spunta che ne ha fatte zero ma è crashato è crashato Iron e si è riuscito anche a me è bugato perché è un front aspetta Ronald che stoppo la trasmissione e la riaccendo oh vieni in chat e l'ultimo è è se l'ultimo è è è Grazie.